Allontanamento zero, sono proseguite le votazioni in aula. Morti sul lavoro, un minuto di silenzio, ricordate le 64 vittime del 2021. In mostra a Palazzo Lascaris, i 200 anni della scuola allievi carabinieri. Nuova edizione di Consiglio News. In apertura ci occupiamo del disegno di legge allontanamento zero. Sono proseguite in aula le votazioni, una trentina gli emendamenti approvati. Proseguirà martedì prossimo, dopo che la Commissione Bilancio si sarà riunita lunedì per rivedere la norma finanziaria, l'esame delle DDL allontanamento zero, sul quale pendevano in totale 497 emendamenti e sul quale è stato deciso il contingentamento dei tempi per la discussione. Nel corso della due giorni di aula, martedì e mercoledì, dopo la conclusione della discussione generale, nel corso della votazione dell'articolato, sono stati approvati una trentina di emendamenti della maggioranza, respinti invece tutti quelli presentati dall'opposizione. Noi riteniamo di poter lavorare su quell'80% di allontanamenti, le cui cause secondo noi sono superabili attraverso un accompagnamento, un supporto che sia economico, psicologico, sociale, che sia lavorativo, che sia abitativo, del nucleo. Poi c'è un 18% rispetto a cui noi riteniamo che invece questi allontanamenti debbano essere fatti e in modo ancora più tempestivo, ancora più cogente, perché è necessario ovviamente allontanare il minore laddove è in pericolo. Uno strumento per tutelare le famiglie e soprattutto quelle più in difficoltà e che attraverso un reale aiuto da parte delle istituzioni possono effettivamente superare un momento di forte crisi. Non serve una legge, ma serve piuttosto un piano per l'infanzia e per l'adolescenza che metta delle risorse innanzitutto per assumere educatori, assistenti sociali, psicologi nelle ASL, neuropsichiatri infantili che oggi sono pochissimi. Il benessere dei minori e la famiglia, due valori fondamentali ai quali noi di Fratelli d'Italia non verremo mai meno. Quindi abbiamo fatto tutto il possibile in questo lungo percorso per dare il miglior prodotto legislativo possibile. Negli ultimi dieci anni sono aumentati gli abusi e le violenze sui minori. Dal 134% un bambino viene ucciso ogni due settimane. In un contesto del genere non si può parlare di allontanamento zero. Nella seduta di martedì l'Assemblea regionale ha anche proclamato all'unanimità consigliera per il gruppo Liberi Uguali Verdi Silvana Cossato, subentrata a Marco Grimaldi, dimissionario a seguito della sua elezione a Montecitorio. Morti sul lavoro sono state 64 le vittime in Piemonte nel 2021, commemorazione nell'aula di Palazzo Lascaris. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza è la causa principale delle troppe morti sul lavoro in Italia e in Piemonte. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia in occasione della 72esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro celebrata il 9 ottobre a cui l'aula ha dedicato un momento di ricordo con la lettura dei nomi delle 64 persone decedute nel 2021. I numeri ci dicono che tante, troppe persone sono morte a causa di incidenti sul lavoro e che è quindi necessario far crescere la cultura e l'impegno della sicurezza in luoghi di lavoro. Tre morti al giorno che la media che c'è ultimamente sono gli stessi morti che si contavano dieci anni fa quindi forse non abbiamo capito bene bene cosa si deve fare. L'aula ha poi osservato un minuto di silenzio. Contraccettivi gratuiti. La capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Di Sabato ha interrogato l'assessore Icardi nell'ambito dei Question Time. Contraccettivi gratuiti in Piemonte. La Regione sta applicando quanto previsto dalla delibera del 2018. Questo l'interrogativo che Sara Di Sabato, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha rivolto all'assessore Luigi Icardi nell'ambito dei Question Time in Consiglio regionale. La Regione sta provvedendo a promuovere e garantire per specifiche categorie opportunità di accesso facilitato alla consulenza e alla pratica contraccettiva, ha sottolineato Icardi. In particolare è prevista l'esenzione del pagamento dei contraccettivi per le donne di età inferiore ai 26 anni, per le donne di età compresa tra i 26 e i 45 anni che risultino disoccupate. Per tutte le lavoratrici colpite da crisi o che stiano affrontando il post-interruzione di gravidanza entro 24 mesi dall'intervento e donne in post-partum nell'arco dei 12 mesi successivi al parto. Dunque, conclude Icardi, tutte le previsioni di legge sono pienamente rispettate e applicate senza ricorrere a variazioni di bilancio. Come ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno la più frequente tra le patologie oncologiche femminili. Numerose le iniziative organizzate per coinvolgere la cittadinanza attraverso campagne di sensibilizzazione e di screening gratuito. L'Andos Onlus, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e della consulta femminile regionale di cui fa parte, ha lanciato la campagna Ottobre Rosa che consiste nell'illuminazione di edifici e monumenti con il colore rosa il primo e l'ultimo weekend di ottobre. La campagna è sostenuta anche da Anci Piemonte che ha invitato i comuni e le amministrazioni di tutto il territorio a partecipare all'iniziativa decorando piazze e luoghi pubblici con palloncini rosa riportanti la scritta Andos, la prevenzione salva la vita. A sostegno dell'iniziativa, anche l'URP del Consiglio regionale ha allestito i propri spazi con palloncini rosa. In mostra a Palazzo Lascaris i 200 anni della Scuola Allievi Carabinieri È visitabile fino al 7 dicembre a Palazzo Lascaris nelle sale della Galleria Carla Spagnolo la mostra Guarda voi, due secoli della Scuola Allievi Carabinieri di Torino aperta al pubblico da venerdì 21 ottobre. Il 12 ottobre 1822 nacque a Torino la Scuola Allievi Carabinieri che ancora oggi ha sede nella caserma Cernaia. Il Consiglio regionale ha voluto fortemente partecipare attivamente a questa mostra e a tutte le manifestazioni che sono state svolte in questo anno. Nel 1822 il capo dello Stato, il Sovrano, decise di arruolare i carabinieri non solo come proveniente ai militari ma anche dai civili, gli allievi carabinieri. Aveva percepito la necessità di avere un percorso di formazione ad hoc specifico per i carabinieri, un percorso lungo. Pensate che il primo corso prevedeva 18 mesi di addestramento prima di diventare carabinieri. Guarda a voi è stato l'antico comando di Attenti che ha messo in riga intere generazioni di reclute dell'armata sarda prima e dell'esercito italiano poi fino al 1870. Abbiamo cercato di raccontare alle giovanissime generazioni un momento importantissimo della storia d'Italia la nascita dell'arma dei carabinieri e la nascita della Scuola Allievi dei Carabinieri qui a Torino. Naturalmente il messaggio è dedicato a loro il racconto è dedicato a loro le immagini, gli oggetti li devono far entrare in quella quotidianità che non si legge nei libri di storia ma è come dire la polpa, il succo della vita di quell'epoca. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 con ingresso gratuito. Le scolaresche interessate a una visita guidata possono prenotarsi nella pagina appositamente dedicata del sito del Consiglio regionale. Dalla Marcia su Roma, di cui ricorre il centenario alle crisi delle democrazie al via un ciclo di incontri patrocinati dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. In occasione dei 100 anni dalla Marcia su Roma il Polo del Novecento promuove su iniziativa della Fondazione Carlo Donat-Catten il progetto speciale 100 1922-2022 dalla Marcia su Roma alla crisi delle democrazie che si svolgerà a Torino fino al 31 ottobre con il patrocinio del Ministero della Cultura del Consiglio regionale del Piemonte Comitato Resistenza e Costituzione del Comune di Torino e dell'Università degli Studi di Torino per riflettere sul ventennio e sull'attualità. L'evento di inaugurazione si è tenuto nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino. È vero che il fascismo è alle nostre spalle ma è vero anche che alcune pulsioni alcune storture sono ancora vive nella nostra società e di queste dobbiamo essere innanzitutto consapevoli e rifletterci per l'avvenire. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie! Grazie!